Benvenuti a tutti ragazzi ed eccoci in questo secondo video del mio canale e siamo in questa gara di merda Ed Bono Smile Ok Oh cavolo come cazzo si fa come si fa sto coso come si fa è impossibile ah giusto Allora mi fai fare oh mi fai fare un attimo la cavolo dentro per piacere Ok raga come sempre io sono Peppe Joe Gamer e siamo in questo l'ho già detto secondo video del mio canale e sono in terza posizione Oh che cavolo è C'è la gara che è più tifosa di questa gara Che si chiama E iscrivetevi anche nel canale di Oscar Locascio Sì che io Sì Sì ahahahah ma che cazzo sta succedendo siiii muori crepa 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 pazzo che mi ha messo il dito e buuuu uuuu che cavolo è successo uuue non posso sbagliare se non crepi te lo giuro se non crepi aaaah ma fuu viaaa porca vacca raga spostatevi davanti al cavolo oh no 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 porca vacca ooo piuuu no ma fu giulo scherlugasio ma fu giulo ma fu giulo ma fu giulo ma fu giulo E' bastardo, Ed Eeeh Cavolo, è qua Vieni qua Oscar, vieni Ti levi davanti E muori Oscar, muori E siamo in prima posizione E che cavolo fai con le gravatine al limone, eh? Dai vieni Oscar, vieni? E che cavolo Dai, questo lo si è fatto allora, veloce Via 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 Sì Sì E stai guaiito Non si dicono le gravatine Te lo ricordo Vaffanculo E se tu l'anti seggi, eh, 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 zitto taglio la tua voce Ma come cavolo Porca vacca Siete tutti bastanti È impossibile Soffri, soffri Oh, gira gira No, no Ecco qua No, mi sono fatti s... Oscar, crepa Eh, adesso ti faccio vedere io, eh Quanti giri ci sono? Ah, sì, è l'ultimo, eh Forza, venite, raga, venite Dove sei? Oscar, louca, chietto Oto Ah, no Eh, tendo il suo per ora, non è vero No, venga, ora va No Vai Oscar, veniamo l'imboscata a Elmo, smile Sì, invece Vai Sì, ce la fa Ce la fa, Peppe, ce la fa Forza, vieni lì, lo posso smile, vieni Voglio vedere se adesso non riesci a superare Allora, ragazzi, adesso ci mettiamo qua Ci mettiamo qua Allora Allora oh oh peccato no via 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 no ma la stessa ti faccio vedere io che cavolo ok allora significa che sei derzo arrivo si no vaffanculo eh vabbè tanto l'ho preso il checkpoint nooo l'ho ficca strana proprio ora che me lo faccio a piedi e ci siamo ragazzi che cazzo che cazzo vuoi and un attimo ok siamo arrivati in seconda posizione raga e vediamo i big bone è livello 83 che cavolo è che cazzo che cazzo che cazzo ok usciamo raga ok raga e ci troviamo alla fine del video come al solito lasciate un commento mi piace anche la pagina di facebook come il video trovate nella descrizione se non siete ancora iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi bella bella bella